Si parla da anni di Abruzzo Engineering, società interamente partecipata della regione Abruzzo, tema che ora il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci fa tornare di attualità con un appello che lancia a tutela di tutti i lavoratori. Dal 31 dicembre sono scadute infatti le convenzioni regionali con la società che svolge attività essenziali legate alla ricostruzione, al genio civile, al bando fare centro e ad altre attività che secondo Petrucci non è pensabile che possano subire ritardi a causa della situazione. Secondo Petrucci, a causa degli ultimi tagli in bilancio, è ipotizzabile una copertura finanziaria solo per pochi mesi e la regione, inoltre per il consigliere Demma, ritarda sempre nei pagamenti ad Abruzzo Engineering per servizi e prestazioni. Di qui l'appello a rinnovare le convenzioni ma anche a trovare le risorse, anche perché i lavoratori hanno sempre continuato ad operare, seppur tra mille difficoltà e in un clima di grande incertezza. I professionisti, per la maggior parte aquilani, che prestano servizio a collaborazione tramite Abruzzo Engineering, lavorano anche le pratiche del poster remoto per il Comune dell'Aquila, per l'USDRA e per la regione e non percepiscono lo stipendio dallo scorso settembre. Petrucci ha chiesto risposte al presidente Marsilio e all'assessore Liris. Se non dovessero arrivare è pronto a chiedere la convocazione di una commissione di vigilanza e controllo apposita su questo tema. L'argomento è abbastanza trasversale perché anche il capogruppo d'Italia Viva al Comune dell'Aquila, Paolo Romano, ha presentato un'interrogazione al sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi sul mancato pagamento ai professionisti di Abruzzo Engineering di supporto alla ricostruzione post-sisma. Si tratta di 84 unità di personale, la maggior parte operante in comune all'USDRA appunto, pagati con fondi vincolati dello Stato per il tramite della struttura di missione per mezzo del trasferimento effettuato con delibera Cipe, Romano ha chiesto a Biondi se ha conoscenza dei gravi ritardi da parte della regione e ha chiesto pure le motivazioni di tali ritardi e soprattutto se intende adottare qualche provvedimento per quel che può, considerando l'importanza per la ricostruzione di queste figure professionali.